Il Consiglio regionale nella seduta del 29 settembre scorso ha approvato la legge modifiche ed integrazioni alle leggi regionali e misure urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica. La norma d'iniziativa congiunta dell'assessore Campitelli, del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e di alcuni consiglieri della maggioranza di centrodestra introduce disposizioni di semplificazione in materia urbanistica intervenendo sul processo di approvazione degli strumenti di pianificazione snellendone le procedure, specie quelle di iniziativa privata confermando quale unico momento decisionale l'istituto della conferenza dei servizi all'interno della quale troverà spazio anche il parere delle amministrazioni provinciali. È una legge regionale importante che detta norme di semplificazione per quando riguarda l'urbanistica è un tassello importante per arrivare in futuro a una norma più organica che la revisione della legge regionale 18 dell'83, ormai obsoleta, ormai di 40 anni. È una norma che nasce in un periodo così importante come il Covid e quindi detta delle linee guida, fa chiarezza, rimette ordine in una materia così complessa, dà ossigeno al tessuto economico, snellisce le procedure, il che non significa che le deroghe diventano regole, soprattutto da tempi certi di risposta da parte della pubblica amministrazione verso i cittadini e poi tende alla sburocratizzazione. Tutto questo nel pieno rispetto delle norme di salvaguarda ambientale, paesaggistiche, igienico-sanitarie, sismiche eccetera eccetera eccetera. Quindi voglio dire una norma che nasce anche perché abbiamo voluto raccogliere il grande grido di dolore che arrivava dal territorio, sia da parte del tessuto economico, dal tessuto sociale, che vivono in grandissima difficoltà che stanno soffrendo non solo a causa di questa pandemia ma anche a causa di una burocrazia che rallenta il nostro paese e la nostra regione. Non possiamo rimbirci la bocca soltanto di parole, bisogna far seguire le parole anche i fatti, il che significa che noi abbiamo fatto una scelta coraggiosa, questa maggioranza ha fatto una scelta coraggiosa, siamo stati chiamati dagli abruzzesi a governare questa regione e il che significa prendere delle scelte importanti e anche coraggiose che vanno in un'unica direzione, quella di rialzare la testa della nostra regione e dei cittadini abruzzesi.